Da lunedì a venerdì a Disney Junior, al tuo fianco ci sono amici molto speciali Sempre io ti aiuterò, se tu ti sai di più Con cui scoprire luoghi fantastici Benvenuti nel paese dei libri di fiata In viaggi magici e da sogno Aspetta anche tu la canzone della Buonanotte Con i nuovi episodi dei pigi animali Da lunedì a venerdì alle 8.45 di sera a Disney Junior Grazie a tutti! 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 riconosce il riso e Ariel e Sebastian con Dolmar gli episodi della Sirenetta di Aspetto questa settimana alle 8.55 del mattino a Disney Junior Rimani dal lunedì al Junior T alle 8.45 di sera a Disney Junior Rimani dal lunedì al giorno e il mattino molto colorato